Filippo Ferretti, vicepresidente dell'FC Ponzacco 1920, tu vorrei fare una domanda che non riguarda la partita di oggi, ma sei stato uno dei tre che hanno fatto ripartire il calcio a Ponzacco. Cos'è cambiato da quel 14 luglio 2011, dalla terza categoria, ad essere i primi in eccellenza con 30 punti? Sì, sono cambiate tante cose perché quando abbiamo riniziato logicamente lo scopo principale era proprio quello di riniziare e basta. Poi abbiamo intrapreso un cammino che ci ha portato a vincere il primo anno il campionato senza mai perdere. Con lo scorso anno abbiamo dominato tutta la stagione del campionato di seconda categoria, e vincendo tutte le partite logicamente poi l'avvento di Donati, Gianfardoni, Busti. Niente, ha dato adito a questa fusione col Pisa Sporting Club e oggi si vedono logicamente i risultati. Penso una società pianificata nella maniera giusta, una società che ha gli obiettivi ben precisi, si cerca di portarli avanti, logicamente poi con un gruppo di giocatori, un tecnico preparato, un bel gruppo di giocatori, ottimi giocatori per questa categoria, e logicamente per ora i risultati a volte, tipo oggi, con un po' di fortuna comunque ci stanno dando ragione, quindi speriamo di proseguire bene il cammino e l'obiettivo nostro è quello di vincere anche quest'anno, speriamo di riuscirci. Una grande vittoria secondo me è stato anche rivedere il comunale, tornare a ruggire come i vecchi tempi, gli ultimi dieci minuti hanno fatto la differenza, anche i tifosi che sono arrivati anche ad arrampicarsi sulla rete. Sì, è normale, quando ha dieci minuti dalla fine sei sotto, stai perdendo due a uno, oltre a aggrapparsi alla rete ci siamo aggrappati a tutto, alle speranze, però insomma erano ridotte proprio al lumicino, poi logicamente abbiamo trovato con un gran gol di Tamberi il pareggio, poi è venuto il calcio di rigore proprio allo scadere, diciamo che oggi siamo stati anche fortunati, è vero che io credo in una cosa, c'è un detto che dice che la fortuna aiuta all'audaci, speriamo che sia tinto a pennello per noi, comunque bene, prendiamo la vittoria, non la prestazione ma la vittoria sicuramente sì. Domenica a Castelnuovo si gioca una partita, vecchie sfide tra due squadre che hanno fatto anche un passato professionistico, già un pulma riempito, ci saranno diverse persone che partono da Ponzacco per questa grande partita. Sì, è uno scontro logicamente, è uno scontro al vertice, ci distanza se non erro un punto o due, due punti dal Castelnuovo quindi loro giocano in casa, sarà sicuramente una bella partita, noi dovremmo un attimino ritirare secondo me le fila, fare un attimino il punto della situazione, correggere qualcosa che negli ultimi domenici non è andato proprio benissimo, però la squadra ce l'abbiamo, la tifoseria anche, sarà bello vedere un incontro, anche Castelnuovo è un ambiente molto caldo, quindi caldo loro, caldo lo faremo un po' anche noi, quindi ci aspetta una bella sfida, spero logicamente un risultato positivo e sono fiducioso. E poi c'è l'impegno di Coppa, tu ci tieni particolarmente? Io ci tengo sì, logicamente, ma non solo io, ci tiene tutta la società, ci tiene il Misti, ci tengono i ragazzi, quindi prendiamo un impegno alla volta, ora pensiamo alla trasferta di Castelnuovo della prossima domenica e poi mercoledì ci aspetta una semifinale Coppa Italia, speriamo di poter far bene anche lì, una alla volta, pensiamo intanto a domenica, poi vedremo anche per la Coppa.